Liberi.tv Riccardo Cristiano Oggi di nuovo a Pizzo per un'iniziativa radicale che è quella della fondazione di un'associazione radicale proprio qua in Calabria Questa iniziativa è nata dall'idea di Antonietta Caparrotti e tra gli iscritti di questa nuova associazione abbiamo Carmelo Puglisi che è un giovane, un ragazzo che è intervenuto e ha fatto anche un intervento non dico polemico, però molto interessante proprio in tipico stile radicale Ma infatti tra l'altro è l'unico partito veramente dove si può parlare secondo me liberamente Sì, ho fatto un intervento sul merito in quanto si aspettava da tempo la nascita di un'associazione radicale che accomunasse tutte le altre sparse sul territorio e quindi ritengo che la figura del segretario come quelle del direttivo e quelli che avranno incarichi di rilevanza dovranno appunto farsi carico di grandi responsabilità perché c'è molta strada da fare, molto tempo da recuperare abbiamo molti obiettivi davanti a noi Tra l'altro volevo chiederti una cosa abbiamo avuto la possibilità di parlare in precedenza quando questa associazione è stata seminata oggi e comunque è emerso che sul territorio ci sono altre associazioni però molte di queste associazioni almeno a detta delle persone con le quali ho parlato sono un po' autoreferenziali cosa che probabilmente nuoce all'attivismo in generale ma soprattutto in questo caso all'attivismo radicale sì, assolutamente durante la riunione si accennava anche ai famosi pennacchi li abbiamo sempre chiamati in questo modo purtroppo in Calabria i radicali non sono molti come tra l'altro nelle altre regioni d'Italia e quindi è necessario ed era necessario e per fortuna si è fatto creare un'associazione che ci accomunasse che ci raggruppasse, che ci riunisse tutti quanti e penso che il numero degli iscritti che mi pare che si avvicini a 25 qualcun altro l'ha detto anche prima di me è un numero molto importante perché conosce l'ambiente radicale e io credo che sia un numero destinato a crescere se non solo si cavalcano le iniziative radicali italiani a livello nazionale ma soprattutto se si torna a parlare con le persone perché io penso che i dati delle ultime politiche con un grande astensionismo indicano che ci sono persone che si stanno sempre di più disaffezionando alla politica bisogna riportarle nell'ambito della politica e affrontando i problemi territorio per territorio io penso che hai racchiuso un intervento molto diciamo pregnante sia prima ma anche adesso quella che è l'esigenza non solo diciamo dei giovani ma anche di quelli meno giovani anche perché probabilmente manca un interesse ma manca probabilmente anche un'idea di politica e non il populismo che invece vediamo in giro e che spesso e volentieri serve soltanto a prendere voti ma non a fare nulla quello che manca a un territorio come il Vibonese ma anche il Catanzarese il Cosentino il Regino è probabilmente questo cioè la presenza sul territorio di persone che siano valide e vogliono vedere la rinascita e non diciamo il consumare le risorse del territorio tu essendo un universitario essendo un ragazzo che ha a che fare con altri ragazzi pensi che ci possano essere delle persone giovani che si vogliono interessare alla politica e nello specifico i radicali assolutamente sì davanti secondo me c'è una prateria nella Prima Repubblica c'erano le famose scuole di partito quindi i giovani avevano modo di formarsi sin dai 15 ai 16 anni oggi le scuole di partito non ci sono più e non c'è più quel sistema che per certi versi era molto corrotto ma che aveva anche dei lati positivi come queste scuole per l'appunto e quindi i giovani particolarmente ma anche meno giovani ricorrono ad altri strumenti per formare una loro opinione opinione che però spesso è viziata per esempio quando vengono riferiti dati non veritieri su alcune questioni e quando ci sono diciamo alcuni movimenti politici che in maniera strumentale puntano alla pancia della gente piuttosto che andare a vedere come realmente poter tentare di risolvere quei problemi e i radicali hanno molte ricette molto valide con numeri alla mano su problemi nei quali nessuno ha paura ognuno ha paura di confrontarsi per esempio il caso dei 5 Stelle sullo Jussoli i 5 Stelle che erano favorevoli all'abolizione del reato di clandestinità e che solo dopo la batosta amministrativa fanno un passo indietro e si esprimono contrario allo Jussoli o come Matteo Renzi che toglie la bandiera europea dal suo ufficio e la rimette solo quando vince Macron questo non dà l'impressione di una classe politica con una direzione chiara con idea chiara in mente Perfetto io ringrazio Carmelo Pulisi per il contributo per l'intervento che ha fatto qui al Liberi TV ma anche prima al Fondazione dell'Associazione Radicale io penso che ci sia la speranza di vedere i radicali in Calabria presenti ma dei veri radicali grazie ancora Carmelo Grazie a voi Grazie a voi